Mary J. ASMR Ciao, benvenuta, piacere di riceverti sei qui per le sopracciglia, vero? ok, sì, solo quello avevi detto, sì 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 difatti avevo appuntato soltanto quello spero ti troverai a tuo agio qui nel nostro centro estetico ASMR bene se mi permetti vorrei dare un'occhiata così generale adesso alle tue sopracciglia ok? al naturale sì, hanno davvero una bella forma hai già deciso cosa andremo a fare? le puoi sfondire tanto? vuoi che comunque andiamo solo a pulire la zona? dargli una forma leggermente diversa? sfondendo quindi un po' di più oppure ok, ok ok di solito non tendi a cambiare tanto bene sì ma non devi preoccuparti anche se sono mesi e le hai fatte ricrescere comunque hai un tipo di sopracciglia sopracciglia la cui forma è è veramente molto bella seppur piena ma dona veramente un sacco al tuo viso quindi hai questo vantaggio di poterle per anche non toccare le sopracciglia quindi mi complimento con te tra l'altro tra l'altro il tuo viso è molto 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 bello e fanno da contorno a questo viso già spettacolare allora dato che mi stai dicendo che le fai non molto spesso durante l'anno e che non tendi a cambiare molto forma io opterei per una depilazione fatta con pinzetta non con geretta sì sì ci dà modo di poterci fermare insomma come vogliamo ecco sì esatto man mano ti guardi vedi se ti piaci e al massimo poi se decidi al momento di sfoltare un po' di più spoltià va bene allora innanzitutto come hai già fatto che ti sei messa comoda voglio che tu ti senta rilassata la pinzetta non ti farà molto male perché io ora andrò 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 a mettere sulle sopranciglia una crema che tra l'altro evita l'arrossamento post epilatore o depilatore insomma quindi non la pelle non non altererà il suo colore non ti arrosserai perché andiamo a fare questa preparazione alla pelle insomma ok prima di fare le sopranciglie tu devi stare tranquilla assolutamente non ti farà alcun male bene quindi anche a te piace più l'uso della pinzetta che quello della gioretta bene allora ho scelto giusto per te ok io mi preparo intanto ho scelto Spero che ti troverai bene qui, anche per le prossime volte, e deciderai di venire. Alla prossima. Alla prossima. Come vedi, l'atmosfera è quella giusta per cercare di prendersi cura del proprio corpo, ed anche della propria mente. Sì, è un momento di relax anche per la nostra mente, quando ci prendiamo cura di noi stessi. Allora, la crema preparatoria che andrò a metterti è questa. È burrosa, sì, ma si assorbe subito e ci permetterà poi di lavorare bene con la pinzetta sulle due sopranciglia. Questa, come ti ho detto, ci consente di evitare arrossamenti post-epilatori, depilatori. E ti farà anche sentire meno lo strappo, insomma, del pelo. Ora andiamo a prendere un po'. Allora, già si sente un odore grande e volissimo. Provo a sentire. Buonissima, vero? Io la trovo ottima, la utilizzo sempre per questi tipi di trattamenti speciali, perché non lascio la pelle allossata. Allora, specialmente, quei punti più delicati, comunque, esposti, no? Quasi nessuno si accorgerà, praticamente, che è appena fatto le sopracciglie. Chiaramente, dal punto di vista estetico, sì, perché sarà ancora più bella, per l'inniere. Non si vedrà la rossa. Allora. Prendo. Un po' di greffi. L'appoggio sul banco e comincio a spalmarla sul tuo sopraccigli. Ok. No, non fa niente, anche se è un po' in eccesso, perché la vado a stendere, poi. Ok, passiamo all'altro sopraccigli. Un po' di greffi. Ok, cosas. Un po' di greffi. Un po' di greffi. Un po' di greffi. bellissimo sì, e la sensazione è troppo bella quando qualcuno si prende cura di noi anche se solo per 10-20 minuti della nostra giornata oh ecco allora andiamo a stenderla meglio così si assorbe ecco qua ecco qua bene 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 guardati guardati allo specchio vedi? non c'è nulla lo strato sembra bastoso doppio però poi alla fine la pelle lo assorbe rapidamente pur essendo una crema abbastanza graffa però ci permette di lavorare bene eh sì specialmente con la pinzetta il pelo può scivolare però questa crema è adattissima quando finiremo ti metterò la stessa linea sì 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 ha la stessa fragranza però è un po' più secca ecco e anche quella chiaramente l'assorbe prima quindi farà un ulteriore effetto idratante e anti arrossamento bene poi andrò in casa a rimuovere qualcosa con l'asciugamù ok? posso cominciare quindi? allora allora ok 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 Cominciamo dal soprangiglio sinistro. Vedo che non stai agigliando per nessun motivo, non stai sentendo dolore bene, sono felice, ok, posso continuare allora? Ti vuoi guardare? Continua, ti vedi, va bene? Sì, sto facendo la pulizia, sì. Guardati un po'. Dimmi se ti piaci. Cosa te ne vuole? Sì. Ah, vuoi che continui un altro po'? Però la forma lasciamo quella. Ok. 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 Passiamo adesso al destro. Ok. Ok. bene ok sul codino sì sono attentissima a questo genere di cose provo a guardarti un altro po' come ti vedi? ti piace? non dobbiamo andare oltre sono contenta ok? sì hai mantenuto quella che era la tua idea iniziale cioè lasciare le sopracciglia con la stessa forma ma più pulite fammi soltanto vedere qui un altro po' ecco bene abbiamo completato il risultato finale ti puoi guardare un'ultima volta vedi? hai notato non sei neanche rossa e poi non hai per niente accigliato quindi vedo che praticamente sei stata tranquilla la parte superiore delle sopracciglia non te la vado a toccare con la pinzetta perché non c'è quasi nulla a livello di veluria quindi io personalmente non toccherei né con la ceretta né tantomeno con la pinzetta lascerei così non so se tu altre volte l'hai già fatto però io nel tuo caso diciamo che la maggior parte delle volte non ce n'è bisogno però alcune clienti chiaramente vogliono la depilazione anche qui quindi in quel caso io l'ho fatto però se non è necessario evito insomma nel tuo caso secondo me non c'è bisogno però se vuoi ti sfilo qualcosa ok vai bene così bene allora adesso io vado a tamponare con questo asciugamano i residui che sono rimasti di di crema preparatorio ecco 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 a me va proprio assorbito proprio bene ok 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 vediamo allora anche questa crema ha la stessa fragranza dalla precedente lascia un ottimo profumo ed è il finale ok da questa parte da quest'altro lato ok 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 stendiamo spero ti sia rilassata tantissimi mi sono rilassata persino io guarda ecco questo ok già eri per la prima ora lo sei ancora di più ancora di più ancora di più bene il mio lavoro qui è terminato tesoro spero tu sia rimasta soddisfatta ok mi fa tanto piacere allora ci vediamo alla prossima seduta va bene ciao